ciao a tutti ragazzi un saluto da parte di bianconero man buona giornata a tutti quanti faccio adesso il video post uva inter perché ieri sera troppo incazzato non volevo neanche farlo dunque l'inter vince la coppa italia complimenti complimenti interisti vittoria meritata abitraggio perfetto e che dire niente tanti tanti complimenti guarda batto le mani contro il vetro perché non posso battere mai perché ho il telefono in mano complimenti bravi siete più forti siete migliori ok ma veramente voi fate ma veramente voi state ma voi state ma voi state scherzando cioè io penso che dopo quello che si è visto ieri sera penso veramente cioè se fosse un tifoso milanista sarei molto preoccupato io per le prossime due gare di campionato molto preoccupato un rigore inventato al var quello sull'autaro che inciampa sul anzi che cerca l'autare il contatto sul piede di bonucci due possibili rigori su vlavic non neanche visionati al var 2 non 1 2 brosovic operi se non mi ricordo chi era che ammonito spazza via il pallone da regolamento era espulsione niente lautaro che manda più volte a fanculo l'arbitro così no ma più di una volta a fanculo niente neanche un cartellino giallo nulla e qui cosa 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 da pensare e non è la prima volta eh quest'anno che accadono queste cose non è la prima volta se era detto 5 6 anni fa quando è stato il var che è stato introdotto che era uno strumento che invitava gli abitri a sbagliare di meno ma qua mi sembra che basta aiutando gli abitri a sbagliare di più sta aiutando gli abitri perché il rigore di lautaro se io che ho visto la partita potete sembrare rigore quando lo vai a vedere tu non puoi dar rigore lì perché si vede chiaramente che lautaro che cerca l'aggancio sul piede di bonucci si vede chiaramente tu non puoi dar rigore lì se vai al bar a vederlo non puoi ma a termine di regolamento se tu munisci un giocatore questo pestizza buttami il pallone quella espulsione ma lo dico io eh lo dice il regolamento lo dice il regolamento della federazione italiana della federazione italiana gioco calcio lo dice cioè boh io non lo so con questo ripeto ripeto noi abbiamo giocato una buona partita potremmo sicuramente far di più però quando poi c'è contro un sistema che quest'anno è vergognoso è vergognoso perché non è il primo episodio e tutti lo sappiamo e lo sanno anche gli interisti e qua vengono a dire eh ma allora ora ora vedi cosa si prova quando voi rubavate eh ok ma noi lo facciamo con il passamontagna non noi lo facevamo no con il passamontagna perché all'epoca non c'era il bar con il passamontagna voi lo state facendo veramente agli occhi di tutto il mondo perché ieri la partita juventus inter è stata vista in 150 paesi in tutto il mondo hanno visto lo schifo che avete fatto ieri sera tutto il mondo l'ha visto tutto il mondo l'ha visto quindi di cosa stiamo parlando ragazzi che poi l'inter l'ho sempre detto l'inter quest'anno come rosa la squadra più forte su questo non c'è dubbio io lo dico da inizio campionato chi mi segue lo sa che l'inter è la squadra più forte però quando c'è la squadra più forte e non vinci con i mezzi tuoi ma vinci per favore di altri allora ragazzi dico io non lo so comunque questo è quello che penso io al di là del fatto comunque quest'anno la juventus chiude dopo dieci anni chiudiamo una stagione con zero titoli un anno così può capitare dopo dieci anni che vinciamo ci può stare l'importante adesso è concludere degnamente il campionato certamente non voglio che con la lazio con la fiorentina si vada in campo come se fosse una gita bisogna comunque onolare gli impegni anche per la regolarità del campionato comunque giochiamo contro squadre lazio fiorentina che stanno giocando un posto in europa quindi voglio che voglio massima concentrazione sia lunedì che all'ultima giornata e poi ragazzi tabula rasa si riparte da zero via tanti giocatori come dissi in passato non possono giocare nella juventus e da settembre si ricomincia sperando di avere a disposizione una cosa adeguata che possa finalmente farci tornare a vincere il prossimo anno perché ragazzi anche ieri comunque tanti giocatori hanno ancora dimostrato di non poter giocare nella juventus alexandros tutti alexandro pellegrini ieri purtroppo ha fatto due cross ragazzi che veramente boh io non lo so a volte come è possibile non lo so comunque detto questo ragazzi io vi saluto rinnovo ancora una volta i complimenti all'inter per questa grande vittoria no complimenti mi raccomando eh adesso le due giornate eh ok non dico nient'altro eh amici milanisti in bocca al lupo per le prossime due giornate perché io sinceramente la vedo un po' dura la vedo soprattutto domenica con l'Atalanta occhio perché qualcosa si inventeranno eh vedrete detto questo buona giornata e fino alla fine forza di vento sempre ciao